Purtroppo la rimonta l'avete subita, non siete stati voi a farla? Sì, sì, è una partita un po' che è conseguenza in parte delle vacanze, nel senso che abbiamo fatto delle vacanze sotto il proprio punto di vista vacanze, con tante ragazze che sono fatte fuori e sono rientrate all'ultimo momento, quindi abbiamo un po' partito quello. Il primo set ci aveva illuso che fosse invece una partita facile, perché l'avranno vinto bene come il terzo, poi invece non siamo stati un gran che sabato, però ci poteva stare, sapevamo che dopo le vacanze è un nostro, guardando indietro è un po' una costante nostra che il ritorno dalla pausa natalizia ci penalizza un pochino, speriamo adesso sabato prossimo di essere di nuovo in palla contro il Valle Stura. Tra l'altro i risultati a sorpresa in questa prima giornata del nuovo anno solare, ancora il girone d'andata deve finire, non sono mancati, questo significa comunque che è un campionato che può ancora destare un po' di interesse anche per le prime posizioni. Ma credo, sì, la sorpresa è quella della volescula Ceparana, per i primo posto e secondo posto io penso che non ci sia storia, rimane una lotta a due tra Imperia e Ceparana, poi la pratica forse rimane aperta tra le posizioni di rincalzo, terzo, quarto, quinto tra Albenga e tante altre. I primi due sì, possono perdere un punto qua e là, ma poi non so, sicuramente la sorpresa anche me, anche noi, l'ottima prestazione del 3-2 del volescula Ceparana. Hai detto giustamente Albenga e tante altre magari per il terzo posto, tra quelle tante altre noi ci mettiamo anche la Tiguglio. Sì, siamo in tanti, che siamo lì, che è un po' un campionato che mi fa sembrare quasi di campionato di calcio quando ci sono i tre punti, che ne vinci due, risali 4-5 posizioni, ne perdi due e ti ritrovi a navigare nelle parti basse della classifica, quindi ci possono essere questi mutamenti di classifica conseguenti a due o tre partite positive di fila o negative, viceversa. Noi sicuramente, per il nostro tasso tecnico, per come siamo, certo ci vuole anche un po' di fortuna nel non avere sempre troppo assenso, nelle ultime ci mancava anche la Traverso, che per noi è una figura importantissima, quindi anche questo l'ha inciso. Comunque, vediamo, sabato abbiamo una profeta difficile, noi pensiamo a sabato che è difficile. E mentre continuiamo a vedere le immagini registrate da Alessandro Bellagamba al palasporto di Via Generale Liuzzi a Santa Margherita, tra la Tiguglio in casacca nera più vicina, i vostri teleschermi, il Carcare in casacca bianco-rossa, come detto la Tiguglio ha perso al tie-break contro Carcare, due parole anche sul Casarza Ligure di Roberto Caruso che era impegnato in trasferta a Genova contro l'Albaro, è arrivata una sconfitta per 3-0 contro una formazione neopromossa, sicuramente molto più esperta del sestetto della Val Petronio. Casarza al momento penultimo con 4 punti, parecchio distante, bene 9 lunghezze dalla zona salvezza, però le speranze il Casarza non le ha perse, tra la fine di gennaio, la fine del girone di andate, poi l'inizio del girone di ritorno e tutto il mese di febbraio, il Casarza avrà da disputare una lunga serie di scontri diretti e lì si giocherà di fatto la salvezza, si giocherà le sorti del proprio campionato. La sfortuna è stata che nella parte iniziale della stagione, quando aveva giocato i primi scontri diretti il Casarza era in formazione ampiamente rimaneggiata, ora ha recuperato un po' tutti gli effettivi e conta di giocarsi al completo proprio queste partite decisive per rimanere in categoria. Casarza che probabilmente non vale il penultimo posto in classifica e soprattutto non vale questa posizione, i punti così tanto distanti dalla zona salvezza, resta il fatto che le altre squadre in lotta per rimanere in categoria riescono ogni tanto in qualche colpaccio un po' insperato alla vigilia, colpacci che invece al Casarza non sono mai riusciti, come per esempio in quest'ultima giornata l'impresa del Virtus Estria Sarzana è quella ancora più sorprendente del Volley School in casa del Ceparana, questi sono risultati che fanno saltare il banco un po' per l'alta classifica ma soprattutto anche per la zona salvezza, la zona retrocessione, quindi il Casarza avrà bisogno sì di centrare dei risultati positivi assolutamente negli scontri diretti ma avrà probabilmente bisogno anche di qualche colpaccio o almeno di arrivare qualche volta al tiebreaker racimolare qualche punto anche nelle gare in cui parte sfavorito sin dalla vigilia. Possiamo sfumare con le immagini dal Palasport di Santa Margherita e vedere un po' il programma della prossima giornata, l'undicesima di andata in questa Serie C femminile di Volley e vediamo il programma che cosa riserva alle due formazioni di casa nostra impegnate in questo torneo, la Tiguglio Sport Team Santa Margherita e il Vermar Casarza. Allora, andiamo con ordine, sabato sera alle 21 Sanremo ospiterà la Sarzanese, sabato alle 18 si gioca Volley School Genova contro finale Ligure ma si gioca anche nella palestra di Via Castello dell'Istituto Scolastico di Andrè di Casarza Ligure, Vermar Casarza Ceparano, una gara difficilissima contro la vice capolista per il Casarza, peraltro una vice capolista che sarà in cerca di riscatto dopo la sconfitta interna contro il Volley School Genova che ha visto scivolare le spezzine proprio dal primo al secondo posto. Sabato sera alle 21 Virtus Estri ospita l'Albaro, sabato alle 20.45 l'amatoricella Volley Lanterna Genova ospita il Lamberti Albenga, la Tiguglio cerca il riscatto, sabato pomeriggio alle 17.30 in casa del Vallestura, sabato sera alle 20.30 Carcare ospiterà la nuova capolista Maurina Imperia. Sin qui per la C femminile veniamo ora alla Dimaschile di Volley. Siamo giunti all'ottava giornata in questo campionato, le squadre di casa nostra erano impegnate tutte e tre in trasferta, sono arrivate però bene due vittorie su tre, ha perso solamente il Tre Stelle Villaggio che giocava su un terreno molto difficile come quello dell'Avis Barletta La Spezia che è la squadra ricordiamo seconda in classifica, ha vinto il Rapallo in trasferta, in trasferta ha vinto anche il Seste Levante a Pietraligure contro il Maremola, entrambe sia il Rapallo contro il Blues Volley Genova che il Seste Levante appunto a Pietraligure contro il Maremola hanno vinto al tie break. Ma vediamo un po' il quadro della giornata, manca ancora un risultato all'appello, il risultato di un posticipo, intanto vediamo le gare che si sono giocate, il Santa Sabina Genova ha espugnato 3 a 0 il campo del Sanremo Ventimiglia, il Sabazia Vagadoligure capolista ha lasciato un set ad Arcola contro la squadra ultima in classifica ma ha comunque vinto 3 a 1 e rimane in testa a punteggio pieno, il posticipo è Albaro Cogoleto, poi come detto le squadre di casa nostra, il Rapallo espugna 3 a 2 il campo del Blues Volley Genova, i parziali primo set vinto dal Rapallo di Erosgai 25 a 20, poi il Blues Volley Genova vince il secondo 25 a 22 e vince anche il terzo, la giovane formazione genovese, una realtà molto interessante di questa di maschile, vince il terzo 25 a 19, ma il Rapallo che è sceso in campo in formazione ampiamente rimaneggiata, erano assenti entrambi i palleggiatori ed era assente anche l'opposto titolare Pietro Rossi, vince il quarto set 25 a 17, vince al tie break 15 a 13 il quinto e così rimane terza in classifica in zona promozione. Il tre stelle villaggio di Fabrizio Varacchi, un po' in ritardo di condizioni in questa fase, si arrende 3 a 0 all'Avis Barletta La Spezia, vice capolista Barletta La Spezia che vince il primo set nettamente 25 a 12, abbastanza nettamente anche il secondo 25 a 18, grande rammarico per il tre stelle villaggio nel terzo, il tre stelle villaggio è stato a lungo in vantaggio, alla fine ha perso ai vantaggi 26 a 24 quando poteva arrivare almeno sino al quarto set e prolungare ancora la gara. Impresa invece del sesto rilevante di Mauro Ghio che spugna al terreno del Maremola Pietraligura al tie break 3 a 2, un campo molto difficile ma il sesto rilevante è in forma, era già in forma prima della sosta natalizia quando aveva conquistato due vittorie, a Pietraligura è arrivata la terza consecutiva, il sesto è riuscito a allenarsi bene durante la sosta, ha recuperato anche un giocatore importante come Emiliano Leoncini e così ha espugnato un campo difficilissimo sul terreno di una squadra che l'anno scorso era in categoria superiore. Il Maremola ha vinto il primo set 25 a 23 ma il sesto è squadra che non molla mai, vince il secondo set 25 a 17, ha perso anche il terzo 25 a 19, per 25 a 19 ha però vinto il quarto e ha vinto poi al tie break 15 a 12, i fondamentali della difesa soprattutto ma anche del muro e dell'attacco hanno funzionato bene nella squadra di Mauro Ghio che oltre veramente a non mollare mai e essere molto determinata ha dimostrato anche di poter giocare una buona palla a volo e risale così anche in classifica e a proposito di classifica vediamola sempre in testa punteggio pieno, 8 giornate, 8 partite, 8 vittorie sempre senza mai arrivare al tie break per il Sabazia-Vado Ligure, L'Avis Barletta-La Spezia a sua volta è ancora imbattuto, non ha ancora perso ma ha vinto due partite al tie break e ha quindi due punti in meno, Sabazia-Vado Ligure 24 a 22 L'Avis Barletta-La Spezia ma saldamente in zona promozione anche il Rapallo con 20 punti, infatti verranno promosse alla fine del campionato le prime 3. A 13 quindi già molto staccate Santa Sabina-Genova e Tre Stelle-Villaggio, Blues Volley-Genova a 12 risale 11 punti il Volley-Sesto Levante, a 9 il Marremo-La Pietraligure, l'Albaro è a 7 punti con una gara da recuperare così come il Cogoletto che è a 6, a 4 punti il Sanremo-Ventimiglia chiude a 0 la formazione spezzina dell'Arcola. Vediamo il prossimo turno, sarà la nona giornata di andata di questo torneo, di questa serie di maschile, questo campionato regionale, vediamo quindi il turno in programma direi nel prossimo fine settimana, ma bisognerebbe dire un po' spalmato nei prossimi giorni. Domenica pomeriggio alle 17.30, nuova trasferta, la seconda consecutiva per il Sesto Levante sul campo dei Genovesi del Santa Sabina, sabato sempre alle 17.30, al Marremo-La Pietraligure ospiterà l'Arcola, già giovedì sera alle 21.30 in anticipo Cogoletto contro Sanremo-Ventimiglia. Poi la gara che si giocherà martedì sera in posticipo alle 21 è Sabazia-Vado-Ligure-Bulus-Volley-Genova, sabato sera alle 21, alla palestra della Casa della Gioventù di Rapallo, il big match di giornata, PSM-Rapallo contro Avis-Barletta-La Spezia, tra due squadre che sono in piena zona promozione, il Rapallo è terzo, spera di recuperare qualcuno degli attuali giocatori assenti, giocherà in casa contro la seconda in classifica, l'Avis-Barletta-La Spezia, l'obiettivo dei ragazzi di Erosgai è andare all'assalto degli avversari per scavalcarli in graduatoria. Sabato alle 18, Tre Stelle-Villaggio giocherà a Carasco in casa contro l'Albaro per cercare di ritrovare la via del successo. Sin qui la di maschile, veniamo alla di femminile, un girone B che è giunto al decimo turno, è già la prima giornata di ritorno, questo è un campionato che procede velocemente, già a marzo si dovrà chiudere la prima fase della stagione regolare per poi dare il via alla seconda fase, un inedito introdotto da quest'anno, pull promozione con le prime cinque classificate dei gironi A e B e pull salvezza con le classificate dal sesto al decimo posto del girone A e B e verranno conservati i punti conquistati negli scontri diretti della prima fase, quindi si partirà da due classifiche già sgranate. Ma vediamo intanto come sono andate le cose in questa prima giornata di ritorno, mediamente abbastanza bene per le squadre di casa nostra, intanto in un anticipo giocato il giorno dell'Epifania, lo Spezia Elettrosistemi, il centro volley ha espugnato il campo del Pontremoli per 3-0, non si è giocato Volley Team La Spezia Villaggio Volley per indisponibilità della palestra di La Spezia, del campo proprio della palestra di La Spezia, il campo uno dei campi del Palasport, il grande Palasport di via Federici alla Spezia, una gara che è stata così posticipata a giovedì 27 gennaio alle ore 21. Il derby di giornata è andato all'Atte di Guglio Rapallo che è spugnato 3-0 il terreno del volley Uscio, parziali di 25-20, 25-20, 25-21 per il Rapallo, avremo le immagini di questa partita, curate dal nostro Lelio Moller e poi ascolteremo anche delle interviste. L'Admo Lavagna Capolista non si ferma, in via Dante batte 3-1 l'Audax Quinto con parziali di 25-13, 16-25 e poi 25-20, 25-22, mantengono il primato solitario in classifica le ragazze di Stefano Capponi e poi la Proreco, ancora una vittoria pesantissima in trasferta a Genova contro il Santa Sabina, le ragazze di Alessandro Domenici hanno vinto al tie-break 3-2, primo parziale vinto dal Santa Sabina 25-19, il Reco vince il secondo 7-26-24, vince molto bene anche il terzo 25-13, poi subisce il ritorno delle genovesi nel quarto 25-17, ma chiude al tie-break in proprio favore al quinto 7-15, a 12, vediamo allora la classifica che vede sempre al comando Admo Lavagna con 28 punti, Latte di Guglio Rapallo 26, queste due squadre ormai virtualmente sono in pool promozione, è poi Bagarre per terzo, quarto e quinto posto, quindi gli altri tre posti utili per la pool promozione con quattro squadre in lotta, Santa Sabina Genova 18, Spezza Eletrosistemi, Centrovolle 17 insieme al Volley Uscio, a 15 troviamo la Prorecco, possiamo tornare intanto sulla classifica per vedere proprio questa Bagarre questa lotta per tre posti, terzo, quarto e quinto della classifica con quattro squadre che si stanno giocando proprio questo piazzamento, vi ricordiamo Santa Sabina 18 punti, Spezza Eletrosistemi che sarebbe il Centrovolle, il Volley Uscio 17, a 15 la Prorecco, a 9 l'Audax quinto, il Villaggio Volley a 7 punti insieme al Pontremoli, ma il Villaggio Volley ha una partita da recuperare così come il Volley Team La Spezia che ha quota 3 punti, queste due squadre come detto recupereranno il prossimo 27 di gennaio. E allora vediamo le immagini di questo derby giocato a Uscio nella palestra di Piazza Resistenza tra l'Uscio padrone di casa e il Latte Tigullio Rapallo, le immagini sono del nostro Lelio Mollar, ascoltiamo innanzitutto l'intervista realizzata con Roberto Canessa che è il direttore sportivo dell'Atte Tigullio Rapallo mentre vediamo appunto le immagini di questo derby.